Con Francesco Antonioli, giornalista, scrittore, direttore di rivista, a parlare del suo ultimo libro. Innanzitutto Francesco, buona giornata, benvenuto in questa prima giornata di Salone del Libro. Grazie e buona giornata a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Come è stata questa tua prima giornata qui a Salone? Sappiamo che poi la vivrai da tante altre, preso da mille impegni, ma che salone hai trovato? Tutti gli anni cambia qualcosa, si aggiunge un pezzo, è sempre un'esperienza un po' nuova? Sì, devo dire che è un'esperienza che crea dipendenza. Io non ne ho persa una, il che la dice lunga sulla mia età, ma credo che sia un'occasione straordinaria intanto perché si parla di contenuti, contenuti cartacei, non solo digitali, con calma, mi verrebbe da dire con un andamento slow e soprattutto curando poi molto le relazioni, ecco, perché è una straordinaria occasione per fissare degli appuntamenti ma anche per degli incontri inaspettati che ti arricchiscono, che contribuiscono a creare magari progetti futuri. E' da poco conclusa la tua presentazione del libro nella prestigiosa location dell'Oval, progetto Nord-Ovest per Lewis University Press con la tua firma, Milano-Torino-Genova e il futuro dell'industria italiana. Prima di arrivare sul libro parto da un ricordo di infanzia, fin dalle elementari, nelle lezioni di geografia legate al nord ci insegnavano cos'era il triangolo industriale. Milano-Genova-Torino, Milano-Torino-Genova. Tu esci parlando di progetto Nord-Ovest, citi questo triangolo industriale, c'è da ridere o c'è da piangere? No, c'è da essere responsabili guardando al futuro. Le cose sono cambiate evidentemente dagli anni del boom economico potremmo dire che ci sono delle diverse geometrie di questo triangolo che adesso ha assunto un nome diverso per iniziativa delle associazioni confindustriali, cioè mitogeno, che è una parola complessa che in biologia ricorda Milano-Torino-Genova, ma il mitogeno è qualcosa che crea nuova vita, nuovi progetti e quindi è un po' il contrario di quello che si diceva 20-30 anni fa, il gemito tra le tre città. Ecco, io ho chiamato il primo capitolo, l'ho intitolato La bella addormentata nel fosco per dire che abbiamo tante ricchezze su questi territori che però vanno liberate da questa patina alle volte di tristezza, di autoreferenzialità che c'è soprattutto in terra subalpina. Bisogna collaborare le tre grandi metropoli sapendo che ci sono territori intermedi da valorizzare e che nei prossimi anni avremo una straordinaria opportunità per il territorio, quindi anche per i nostri figli con il terzo valico che ci porterà il retroporto genovese nell'Alessandrino, straordinaria chance per la logistica e l'industria di trasformazione, il collegamento veloce sotto il Freius, un porto di Genova che al di là delle turbulenze giudiziarie di questi giorni però si sta attrezzando per essere dinamico una porta affacciata sul Mediterraneo, insomma dobbiamo impegnarci, è il titolo dell'ultimo capitolo a combattere il giorno della marmotta, cioè a far sì che ci ritroviamo poi di nuovo tra vent'anni a dirci le stesse cose, dobbiamo fare dei passi in avanti assumendo tutti una postura diversa. Dobbiamo, un plurale, c'è anche una novella che dice che qualcuno, c'è un lavoro da fare, qualcuno, alcuno, nessuno alla fine il lavoro resta fare, questo impegnarci, chi riguarda principalmente e qual è l'impegno? Io credo che riguardi tutti complessivamente, naturalmente ognuno per quanto di sua competenza, io dico che dobbiamo uscire, dobbiamo abolire la modalità assemblea di condominio, quella che ci fa essere come dire, degli egoisti meschini. Questo può accadere certamente nei nostri condomini, ma nelle circoscrizioni di quartiere, nei piccoli paesi, ecco nella grande industria e sempre più su anche ai livelli di decisori pubblici. C'è un problema oggettivo di leadership, credo che vada ricostruita con intelligenza una classe dirigente facendo in modo però che la politica guardi lontano respirando a pieni polmoni. Quello che manca è uno sguardo d'insieme di una politica industriale che ragioni per fattori e non per settori, perché su questo possiamo costruire gli anni a venire con intelligenza. Non dimentichiamo che siamo seduti sopra la bomba demografica che è un elemento di preoccupazione su cui bisogna ragionare. Bisogna essere positivi guardando lontano, abbiamo competenze, abbiamo saperi. Se mettiamo questo spirito di servizio potremmo dire da civil servant, ce la possiamo e ce la dobbiamo fare. Una crisi citavi di leadership, lo sentiamo dire spesso, prova a rivaltare la domanda, magari nel tuo libro qualche risposta la si può trovare al di là dell'analisi economica, approfondita che tu fai. Questa crisi di leadership, tornando su delle parole italiane, è una crisi di valori? È una crisi di competenza? È una crisi etica, di morale? Che crisi è? È un po' credo e temo tutte queste cose insieme. Mi ha colpito arrivando qui al Salone del Libro una discussione fatta con un tassista che ho preso al volo che diceva, commentando i fatti di Genova, che lui assolutamente non va più a votare. Ecco, questo è il problema, che quando si mettono insieme tutti questi elementi si perde la percezione del bene comune. Cioè, ognuno va per sé, per il suo conto, pensa al proprio tornaconto, non ha uno sguardo lungo, che è quello che poi serve alle generazioni future che ci chiedono, per esempio, sui temi del clima e non solo. C'è sicuramente un problema di valori, di competenze. Bisogna rimettere insieme queste cose e sono convinto anche che non sia soltanto una questione generazionale. Lo è anche, ma non è millennials contro boomers. E tutti insieme, lavorando tra generazioni, dobbiamo prenderci per mano e andare avanti. Riprendendo un vecchio slogan della politica, ma non solo, in questa cosa americana possiamo dirlo serenamente, forse anche leggendo e studiando dobbiamo recuperare un po' di eye care? Eh beh sì, dobbiamo saperci prendere cura di quello che abbiamo intorno. Mi ha colpito molto riprendere in mano quello che diceva il Candide Voltaire, che dobbiamo coltivare il nostro giardino, cioè dobbiamo coltivare quelle che sono le nostre competenze, ma non per chiudere il nostro giardino come si fa nella logica NIMBY, not in my backyard, perché quella è la logica assurda del condominio. Se ci sono delle cose, dei progetti che riguardano il bene comune, tutti vanno coltivati come un giardino e portati avanti, perché così possiamo dare un futuro alle nuove generazioni, ma soprattutto possiamo garantire anche un benessere più stabile e duraturo alle nostre città e poi alle nostre famiglie. Speriamo Francesco diverti ancora ai nostri microfoni in questi giorni. Francesco Antognoli, progetto Nord-Ovest, Milano, Torino, Genova e il futuro dell'industria italiana per Lewis University Press. Grazie Francesco, una buona giornata e un buon salone a te.